Con l'ordine di grandezza è circa 3 milioni e mezzo di italiani adulti che pensano di avere visto un UFO. Come investigatore posso confermare che questi oggetti sono veri. Sapevamo che il Pentagono più di tanto non poteva dire, tant'è che molti dei file sono rivasti ufficialmente secretati. Il rapporto dice molto chiaramente che gli UFO sono un fenomeno oggettivo e reale, gli UFO sono un fenomeno tecnologico. C'è un esperimento in corso da 60 anni per la ricerca dei segnali di vita intelligente provenienti dall'universo, ma in tutti questi anni non è mai stato registrato niente.